In che modo partiamo da produttività e competitività nel settore? In che modo la vostra azienda ha ottimizzato negli ultimi anni o negli ultimi mesi la produttività e quali innovazioni o miglioramenti state apportando o avete in mente di apportare a livello di innovazione proprio? In quanto riguarda la produttività e l'innovazione nelle nostre linee? Abbiamo investito in continuamente miglioramenti, la efficienza energetica, la efficienza produzione, la optimizzazione Kaizen, ma anche in investimenti più radicali. In questo caso investiamo in una nuova line, che è apportata da Barbiere Tarodzi, la città Barbiere Tarodzi. E stiamo iniziando a produrare molto più forte in novembre. Tutto è successo, quindi fino ad ora siamo molto satisfi. Non solo con la produzione, ma anche con il supporto per la produzione. Barbiere Tarodzi ha stato fantastico in supporto di noi, per il nostro design e per altri problemi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La sostenibilità è uno dei temi che vi state frequentando maggiormente, ce ne sono altri? Noi, il nostro focus è in termini di ricerca e sviluppo, è stata la vostra questione, è stata la sostenibilità, la efficienza energetica, e non dovremmo ricordare che tutti gli europei stanno sotto tremendo stress in quanto riguarda la emissione CO2. In questo caso, abbiamo bisogno di dire che il nuovo oven, che abbiamo comprato, da Barbiere Tarodzi, è 60% di idrogena, e anche ha un'efficienza di sicurezza di circa 30% di ovvi precedenti generazioni, che ci aiutano molto. E riguardo a 2030, ci sarà essenziale per farvi 60% di idrogeno in l'oven, in questo senso, non solo in line, ma all'interno della fabbrica, l'efficienza energetica e la sostenibilità sono uno dei problemi principali. per quanto riguarda il italiano? Abbiamo dei plani, abbiamo bisogno di discutere problemi con voi, capire più le vostre innovazioni. Vi ho visto che hai presentato 20 innovazioni in questa Tecna, abbiamo appena arrivato, quindi ancora vogliamo guardare e vedere, per quanto riguarda le vostre tecniche, professionale, quindi sei sempre un grande candidato per essere il nostro servizio, perché siamo felici con il modo che ci stanno. Grazie mille! Grazie mille!